Bella ragazzi, 5 di 8, buon inizio settimana a tutti, lunedì felici per noi laziali perché siamo reduci dalla grande vittoria di ieri a Bergamo contro un'ottima Atalanta perché noi siamo sportivi, facciamo i complimenti all'avversario, però noi guardiamo già avanti, io sono già proiettato alla partita di domenica sera al posticipo contro il Cagliari, match da non sottovalutare perché il Cagliari non può permettersi di lasciare altri punti per strada visto che ieri ne ha persi altri due. Oggi volevo quasi fare un video sull'allenatore dell'Atalanta, sulle sue dichiarazioni a dir poco irrispettose verso la società sportiva Lazio, ma io penso che alla fine non meriti neanche la mia, la nostra considerazione. Quindi oggi sono qui per parlare di Calciomercato Lazio perché oggi è l'ultimo giorno di Calciomercato, oggi chiuderà la sessione invernale di gennaio alle ore 20, quindi mi raccomando ragazzi un bel like a questo video, cerchiamo di arrivare diciamo a 400 like, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Questa sera potrebbe esserci una live ma non ne sono sicuro, però se vi iscrivete in teoria YouTube dovrebbe mandare la notifica. Oggi siamo qua per parlare soprattutto di cessioni perché il Calciomercato in entrata si è chiuso con l'acquisto di Musacchio che ieri è esordito, ha giocato bene, senza di fame e senza lode perché comunque ieri è stato poco impegnato, ma già domenica partirà a titolare molto probabilmente contro il Calciomercato, quindi lì vedremo Musacchio ma sapete che io sono molto fiducioso su questo acquisto. Ma parliamo appunto di queste cessioni, ce ne sono molte, alcune di esse devono ancora venire, avverranno magari proprio nelle ultime ore di questo Calciomercato, alcuni movimenti anche un po' a sorpresa. Il primo è proprio Silvio Proto, classe 83, portiere che la storia della Lazio di Proto la conosciamo, solo 9 presenze, ha vinto comunque due trofei da non protagonista, non ha mai convinto, io le pressioni di Proto le ricordo tutte abbastanza comunque negative. Quindi Silvio Proto ha resciso il suo contratto ma qualche giorno fa si parlava di un suo possibile reintegro, magari hanno voci infondate, se Stracoscia avesse dovuto operarsi. Quindi alla fine è stata accantonata questa ipotesi di reintegro e Proto ha resciso il suo contratto e io non lo ribianco affatto, non me ne voglia Proto. Poi un'altra rescissione, parliamo di Davide Di Gennaro, vi ricordate quando arrivò Di Gennaro eravamo tutti un po' perplessi anni fa, io pensavo che qualche presenza in più la potesse fare, invece va Cesena e solo due presenze con la maglia della Lazio, quindi giocherà appunto in Lega Pro con il Cesena, già il suo esordio è previsto nella prossima gara con il Perugio. Quindi salutiamo anche Davide, gli auguriamo un buon proseguo di carriera, perché comunque è un giocatore non vecchio, che anni che non gioca e non capisco questa sua scelta di essere venuto alla Lazio, sapendo praticamente di non vedere mai il campo. Ecco, poi questa cessione qua mi lascia un po' più perplesso, Sofianchine torna in prestito a Salerno dopo sei mesi di fermo, io non capisco come mai questo giocatore non è stato preso neanche in considerazione da Inzaghi perché poteva essere utile, un giocatore comunque giovane, bravo, che anche nel precampionato ha fatto bene, aveva fatto una bella amichevole col Frosinone, e siamo stati sei mesi a sinistra solo con Fares, poi abbiamo spostato Marusi che sta facendo molto bene, però Kine poteva essere utile. Comunque in prestito nel caso potrà tornare alla Lazio, io comunque credo nelle potenzialità di questo giocatore. Poi in uscita ci sono, vabbè, nomi di minore importanza come Bari, Minala, Bukhar, che sono in scadenza e sono in cerca di un'altra sistemazione, e poi Diava Anderson che ha rifiutato il Crotone, io non capisco questa scelta perché lui è fuori rosa, quindi non potrà giocarsi le sue carte perché sappiamo che ha lasciato il posto a Lulic, lui era in lista, è tornato il capitano, è stato escluso dalla lista, è praticamente fuori totalmente dal progetto Lazio, anche perché lui non è un Under 23, è del 95. Troppo ha dichiarato che ha anche parlato direttamente con lui, ma non è stato convinto da questa scelta, vediamo in queste ore dove si accaserà, comunque probabilmente anche lui verrà ceduto. E poi il nome più importante tra questi che è Denis Vavro, ecco, io su Vavro ho un po' il rimpianto, perché per me Vavro non è una pippa, poteva essere anche un buon giocatore, purtroppo non si è integrato, il feeling con Inzaghi non è mai nato e anche lui potrebbe andare via in prestito. Difficile ipotizzare una cessione a titolo definitivo, perché è un giocatore comunque che ha un anno e mezzo praticamente che non gioca, doveva casarsi al Geno, era già tutto fatto, purtroppo il ricomparire della pubalgia ha bloccato tutto, quindi vediamo se ci saranno acquirenti per Vavro, ecco, io un po' di rimpianto ce l'ho su questo giocatore, perché è stato pagato tanto e quegli 11 milioni non te li darà più nessuno, quindi sarà comunque una minusvalenza che peserà sul bilancio della Lazio. Comunque, vabbè ragazzi, è andata così, ora abbiamo preso Musacchio, sono fiducioso su questo nuovo difensore, e poi certo, questo stato in difesa bisogna intervenire con un giocatore della caratura di Acerbi, perché non basta Musacchio, Utt sappiamo che ha fatto anche buone prestazioni, però non è il giocatore che ti alza a livello della difesa, e poi vediamo anche le condizioni fisiche di Luis Felin. Il calcio a mercato della Lazio si chiude qui, ragazzi, ripeto, un bel like al video, seguitemi su Instagram, primo link in descrizione, mi raccomando, e vi ricordo ragazzi, sei calcio, il sito di Maglietti Tutta da Calcio, con cui collaboro a prezzi modici, trovate il link del sito e tutte le info qui sotto in descrizione, mi raccomando, fateci un salto, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, e sempre, a forza, Lazio.